Carissimi amici, come dal primo incontro con Filippo Angelillo, questa sera ci narrerà la lode, la preghiera in dialetto gioiese riguardo alla Madonna dolorata. Madonna Santissima, addolorata mamma, serva devota e seguace fervente, due figlie e signore tu e due mondo. Tu, che hai provato il dolore più grande, avete un signore due mondo sopra la croce, centrati, mani e piedi, con una corona di spina in capa, di sanguata, termandata e sfragellata per tutto il corpo, schernita e derisa da un popolo che non sapeva cosa faceva. E tu, chiangeva, con il cuore strazzato e guardava, mentre Cristo morava, abbandonato il destino che si convive per la salvezza del mondo. Quanta sofferenza, quanta strazia, quanta dolore aveva avuto il tuo cuore tu. Il Padre Eterno, che ti era santificato, benedetto e impregnato con lo Spirito Santo, ti dava la forza di regge a tanta dolore, preanna a Cristo Signore. Sei la prima testimone sopra la terra della volontà di Dio Padre Onnipotente, sei la mamma della Chiesa della Chiesa e di tutti i cristiani. Io non privilegio, prearte e venerarte, sei un rifugio misericordioso di tutti i mamma, sei un muente sante per i feriti e per i sofferenzi. clemente e pietoso, inderceto, Signore Dio Padre, falleviarne di tutti i sofferenzi e penitenzi. Santissima mamma, vergine e pura, addolorata misericordiosa, prediletta amata, premurosa e previdente ansiosa, a quegli la preghiera e supplica nostra, fa che il lieve del bene e della pace se spanna per tutto il mondo, che la venerazione radicata per te è la Santa Chiesa e che l'amore senza conviene con voi, un Signore Onnipotente, garnata, che la triste, perfettissima e santissima, di Padre, figlio e Spirito Santo, che vive con noi, regna l'Universo e aveva regnato per tutta l'eternità. madonna santissima, addolorata, clonna portante dalla Chiesa, regina e sorgente d'amore santo, certezza, certezza di fede, pura e linda luce per tutta la cristianità, a quegli, do cuore gran, tu, la fervente preghiera nostra, per tutte le miserie del mondo. e proteggene, che tutto l'amore misericordioso da Santa Mamma nostra, da tutta la Santa Chiesa, Santissima Mamma, do Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo. eccoci alla madonna addolorata, veramente potrete apprezzare questa lirica in dialetto gioiese, un augurio che facciamo in questa quaresima, perché proprio in questo periodo noi faremo una tradizionale processione che si fa gioia, appunto il venerdì prima delle palme, la dolorata, fa il giro del paese ed entra in chiesa, in chiesa madre, dove avviene l'incontro con Gesù crocifisso. grazie